Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele Gianluca Vacchi lasciato dalla Miss, e Giorgia Gabriele All'inizio dell'estate era stata Giorgia Gabriele, al suo fianco da diversi anni, e protagonista dei suoi video danzanti su Instagram, la giovane mora aveva detto addio a Gianluca Vacchi Tuttavia, l'imprenditore si era presto consolato, facendosi vedere felice al fianco di Ariadna Gutierrez Secondo il gossip, il re del balletto Tras è ora tornato single E' pronto a ricominciare con la Gabriele Single di Ilunga Sembrava fosse una storia destinata a durare, quella tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele Inseparabili e affiatati, i due si mostravano su social sempre l'uno al fianco dell'altra Proprio per questo, all'inizio dell'estate, la notizia della loro rottura era arrivata come una doccia fredda Secondo il gossip, a lasciarlo sarebbe stata proprio la Gabriele Solo qualche settimana dopo, a Miami, l'imprenditore si era però fatto vedere con un'altra bellissima, Ariadna Gutierrez, ex Miss Colombia E, quelli che pensavano ad un flirt estivo, si sono dovuti ricredere, fino ad oggi, i due sembravano fare davvero sul serio Basta vedere il profilo Instagram di Gianluca Vacchi, per leggere vere e proprie dichiarazioni d'amore Dai tanti ti amo al dolcissimo appellativo, Bambi, con cui l'imprenditore definisce la, ex, fidanzata Ora, però, anche quella relazione sarebbe finita Secondo il gossip, anche Ariadna gli avrebbe dato addio, complice proprio il di lui riavvicinamento con Giorgia Gabriele Con lei, del resto, i rapporti non si sarebbero mai interrotti Per lo meno sui social I due hanno continuato a seguirsi anche dopo la rottura, non mancando di mettere mi piace alle rispettive immagini Che sia vicino un ritorno di fiamma, tra il cinquantenne imprenditore che sogna di avere un figlio, e la giovane è bellissima, neo-stilista. Intanto, Gianluca Vacchi si gode la sua seconda vita E la sua nuova carriera Smessi i panni dell'imprenditore, sebbene gli affari li abbia sempre gestiti a modo suo, è ora un acclamato di illunga A fine agosto ha pubblicato il suo primo disco, Viento, singolo che ha ad oggi registrato oltre 3 milioni di visualizzazioni E, proprio come di illunga, sta in questi giorni girando l'Europa, dalla Costa Azzurra a Milano Marittima, da Marbella fino a Mosca e a Baku, tantissime sono le discoteche in cui si è esibito e si esibirà La vicinanza con Giorgia Gabriele Che tra Gianluca Vacchi e Ariadna Gutierrez la storia fosse ormai giunta al capolinea, lo si vociferava ormai da un mesetto, l'ultima loro foto insieme risale allo scorso 16 settembre e, alla Milano Fashion Week, l'imprenditore era stato pizzicato con Cristina Buccino Ma, dopo un party a cui hanno partecipato insieme, quella strana coppia non era più stata avvistata Ora, secondo il settimanale Chi, Gianluca Vacchi starebbe vivendo un ritorno di fiamma con Giorgia Gabriele Alla fine di settembre, la Gabriele ha presentato la collezione estiva del suo brand Vandering e ad applaudirla c'era proprio lo storico ex In quell'occasione, aveva confessato, partecipo a molti eventi, un po' perché lavoro anche come buier per un noto negozio, un po' perché mi invitano Sono singola Malincuore, dopo la chiusura di un importante capitolo della mia vita, adesso c'è solo Giorgia con il suo lavoro Sicura, Giorgia? Ciao! Ciao! Grazie a tutti.